Salve a tutti ragazzi, qui è il vostro Sirico Nota 2 e ci riteniamo oggi in un nuovo video su un'arma distruttiva. In questo video vi porto le pistolette del diavolo, ovvero l'X12A Kimbo che tutti stanno utilizzando come arma secondaria quando si prende la classe. Il settaggio parte con il silenziatore CN30 che ci dà, oltre alla suppressione dei suoni, velocità proiettili, fluidità rinculo e controllo rinculo. Probabilmente quando avrò finito di maxare le pistolette andrò a mettere l'FT Steel Fire che ci dà gli stessi pregi ma in modo migliore. Andiamo poi a mettere la canna XRK Side Window che ci dà controller rinculo e velocità proiettili. Andiamo poi a mettere come azione grilletto l'XRK Lighting Fire che ci dà più cadenza nel sparare. Laser per pistola 1MV per la precisione sparando senza mirare oltre al controllo rinculo sparando senza mirare e la velocità di fuoco dopo scatto. E ultimo accessorio andiamo a mettere le pistolette a Kimbo. Vi lascio la partita ragazzi del multiplayer in cui il Siricone ha fatto una piccola distruzione. Mi raccomando lasciatemi dei commenti per farmi sapere che cosa ne pensate. Abbonatevi al canale e attivate le notifiche per non perdere mai i miei video. Tagli. Eccole qui ragazzini le X12 a Kimbo del diavolo. Vamos. Postazione. Postazione. India queste già sparano ma inizia l'area. Area bersaglio confermata tutti alla postazione. Ti copro io. Quasi doppia vai. Ma perché sempre due alla volta a me? Eh vedi. E la palla, la palla, la palla, la palla, la pistola. Ricarico. Io trovo sempre in mezzo a 8000 persone. No, ho smesso di sparare. No, vedi sto stronzone. Sì. Rifornimento attivato. Ci siamo portati in testa. Arriva un assente. Oavi attende intruzioni. Ricerca della prossima postazione. Prepersonale nemico alla postazione. Ricevuto. Oavi in sorvolo sull'area. Ricognizione disponibile. Area bersaglio aggiornata. Raggiungete la postazione. Il nemico in battaglio. Il nemico in battaglio. Oavi fine autonomia. Mi rientro. spero che mi ha acceso quella da dietro no vabbò sto ricaricando conquistate UAV nemico in zona ancora una volta cocoliso lancio un'esca piazza una carica oh cocoliso ci schiatto adesso ricerca della prossima postazione preparatevi buonanotte UAV alleato in zona UAV nemico in zona area bersaglio aggiornata raggiungete la postazione ancora ma quante cazzo ce ne hanno questi cambio caricatore cambio caricatore dico perduto mi hanno portato la postazione imminente state pronti ahhh attenzione aggiornata conquistate la postazione nemici nel perimetro missile cruise in avvicinamento l'ho fatto anche da stunneto il nostro UAV è in sorvolo UAV nemico attivo UAV alleato online oddio ricerca postazione state pronti mmm puntano tutti questi stronzoners solo con le flashbang cominciano a giocare questi bene stazione spostata portate l'area bersaglio esplosivo aereo in arrivo devo ricaricare no no mentre ricarica ancora sto cocoliso missile cruise alleato in avvicinamento ancora c'è mancato poco lancio una granata esca cambio caricatore a volte si inceppa no 1-1 una ricognizione è pronto UAV in sorvolo sull'area ricognizione disponibile c'è mancato poco posizione aggiornata conquistate la postazione resta un minuto il nemico ha schierato un drone bomba attenzione UAV in uscita dall'area operativa bersaglio siamo a metà scontro e stiamo perdendo forza l'ho distrutto UAV nemico in volo quel elevato risparano addosso ricarica della prossima postazione Aria bersaglio aggiornata, raggiungete la postazione Nooo, pensavo che era uno vivo là UAV nemico attivo Cocoliso Ci siamo UAV alleato in zona No, no, ma dammi Che mi piglia le pistole da terra? Cari, cari, cari UAV nemico in zona Trazione spostata Conquistate l'aria bersaglio Restano a 10 secondi Approvvigionamento stile in zona Ma perché si bloccano? Perché 36-22 con le pistolette che si bloccano Non male Cocoliso Cocoliso Cocoliso